Ehi ciao a tutti, io sono Cinzia e oggi siamo qui per provare qualcosa di nuovo Mmm... aiuto Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video! Ebbene sì, ho deciso di fare qualcosa di nuovo No, penso di non portarlo nel mio canale Però, chissà, non ho mai detto In realtà vorrei creare questo nuovo format Dove provo qualcosa per la prima volta Quindi iniziate a scrivere giù nei commenti cosa provare per la prima volta sul mio canale Nella mia vita in realtà Non per forza devono essere dei giochi Può essere la qualsiasi tipo Prova a fare... a fare la ruota Prova a fare la verticale Non riesco a fare queste cose proprio Oggi, ebbene sì, giocherò a Fortnite per la prima volta Quanto si è sentito parlare di Fortnite C'è il mondo pieno Ma sapete che il mio computer è un pochino pazzerello E in pratica non regge bene i giochi Come potete immaginare con The Sims Dato che non lo state vedendo per adesso sul mio canale Ma ci sto lavorando Quindi ringrazio tantissimo Boosteroid Che è questa piattaforma di gioco cloud Che consente ai giocatori di giocare ai giochi più recenti Senza dover acquistare un PC potente Quindi grazie Io non avrei potuto fare questo video Considerate che potete giocare ai giochi per PC Direttamente dal cellulare O da un tablet O comunque da un dispositivo mobile Quindi è una cosa meravigliosa ragazzi Potete trovare giochi a pagamento O giochi gratuiti Ci sono più di 50 giochi gratuiti E più di 150 giochi a pagamento Quindi ci sono un'infinità di giochi E la cosa bella è che non ho dovuto neanche scaricare Fortnite Sul mio computer che è tipo 70 giga di gioco Ma è necessario avere un account In questo caso di Epic Game Quindi andate su Boosteroid Cercate Fortnite E lì stesso vi apparirà la schermata di Epic Game Fate l'accesso e potrete giocare a Fortnite Come se avesse un computer super potente Cosa importante ragazzi La connessione Mi raccomando dovete avere una buona connessione Almeno quello Ovviamente in questo momento sto parlando di Fortnite Quindi Epic Game come punto di accesso Però ci sono anche Steam Play Origin Il servizio è a pagamento Ci sono diversi pacchetti Se vi può interessare Però se mi volete fare un favorino piccino piccino E mi volete tanto bene Io vi vivi tantissimo Trovate nell'info box O meglio nel primo commento In entrambi Ma so che non guardate mai Nell'info box Quindi nel primo commento E nell'info box Trovate il link Ci cliccate E fate semplicemente La registrazione Che è gratuita Fate la registrazione Fate un favore a me Solo per quello Poi se vi interessa Fate tutto il resto Ok? Intanto fatemi questo favore E andate a fare la registrazione Mi fate un favore a me Detto ciò Direi di collegarci a Busteroid E andare a giocare a Fortnite Andiamo a vedere Che cosa Sono capace Non so Ragazzi Non l'ho neanche mai aperto Andiamo Siete pronti? Ah Ho anche sfoderato le mie cuffie Che sono diventate vecchiotte però Ecco Adesso sono una vera game player Anzi no C'è il joystick pure Andiamo su Busteroid Colleghiamoci E vediamo Che cosa Sono capace di fare Speriamo bene Ah Mi chiamo Cinzia J E' il mio nome Ok Ho il mio joystick Ok Battle Royale Ripeto Non ho mai giocato A Fortnite Ma Scusate Io ho le cuffie Ma Il Suono Si sente da qui Le cuffie Non mi serviranno a niente Eccoci qua Che bella signorina Che cosa faccio Cinzia J Eccomi qua Sono io Dove sono? Mi vogliono sparare Aiuto Ma sono tutti uguali Ok Cosa Cosa faccio Con questo piccone Che è successo? Uh Sono su un dirigibile Ma è un autobus È un autobus Con un dirigibile sopra Ma Ma cos'è? Ok C'è scritto X to jump Saltia Uh Che bello X to Ma quante persone Stanno cadendo Deploy Glid Cos Uh Ok No non lo voglio Voglio precipitare C'è il mare Andiamo a fare Come ci vado là Con questo Volare Oh Cantare Oh Stanno sparando Aiuto Sparano Oh Oh c'è gente Ciao Sono amichevole Non voglio Ucciderti Stanno sparando Io non voglio Marine Sono troppo Giovane Oh Che cos'è questo cielo? Oh c'è una cosa là Che cos'è? Andiamola a prendere XP Salta 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 Cos'è? Ho preso XP Che cosa sono XP ragazzi? Ma ce ne sono tanti Qua sparsi Io li voglio Li voglio tutti Li sto prendendo Sì No Stanno scomparendo No Non andate via Amici miei No Che cos'erano? Non lo so Help me Che cos'è? Munizioni Ma non ho una pistola Yeee Oh Ho scoperto una cosa Ho scoperto che Non ho una pistola Non è un raga Aiuto Che cosa significa? Chi è? Stanno costruendo? Sono io che costruisco? No Non lo voglio costruire Senza No no Ok Ehi Survivor Medial Ho fatto un premio Sì Troppo brava raga Troppo King Steven Che cos'è? Ciao amico Non lo so Aiuto Oh c'è una pistola ragazzi Una pistola Prendila C'ho una pistola Come faccio a prenderla? Che cosa ho fatto? Aiuto raga Un tesoro Ho trovato un tesoro Chi trova un amico Trova un tesoro Che cosa devo fare? Ah dovevo tenerlo premuto Ok Ho delle cose Triangolo Che emozione Che emozione Posso sparare Che cosa ho qui? Raga ma quante cose sto trovando qui? Un ombrello Cosa ci devo fare con l'ombrello? Piove? E come si spara Sempre così Che sta succedendo? You are in the storm run Cos'è le storm? Cosa devo fare? You're medikit Devo usare il kit medico Se non muoio Se non muoio Aspetta Come si usa? Sì? Kit medico Mentre me ne posso andare da qui? Aiuto Sono nello storm Sto morendo Ho gioco per la prima volta E già sto morendo Aiuto Ma posso costruirmi qualcosa? Ma l'ombrello L'ombrello Cosa fa l'ombrello? Che cosa fa l'ombrello? Distrugge? Ma che cosa c'entra? Aspetta L'avevo acceso Aspetta Qui dentro Entro qui dentro Mi salvo? Piove anche qui Sto morendo Aiuto Kit medico Kit medico Sono morta La mia avventura E' terminata Ragazzi Ma cosa? Avevo raccolto il tesoro In fondo al mar In fondo al mar Voglio andare in quel castello Che cosa succede? C'è gente Non so se ho fatto bene A venire qui Mi so di no Aiuto Mi stanno sparando Ragazzi Oh no Ma come si corre? Aiuto Mi so che non dovevo venire qui C'è un xp gigantili Aiuto No Mi sa che morirò Una pistola C'è una pistola adesso Vediamo chi mi spara Mi butto Ho preso l' xp Solo che Sto morendo Aiuto Dai Ma scusa Ma Oh chi è? Oh Mi stanno salvando Mi stanno salvando Dai amico gemello Ma si dice un gemello Grazie Grazie amico Mi sto salvando Ma chi è? Lena Oh Sto facendo tutto Aiuto amico Dammi una medicina Morirò 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 C'è questa linea Nella mappa Questa linea Tipo Tipo Bianca Tipo però eh Che secondo me Indica dove andare Quindi Ora ci vado Andiamoci Ecco ecco Vedi che c'è lo storm Aspetta che seguo la linea Uh lo scrigno Lo scrigno mi piace Wow 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 Aspetta Ste canne da pesca Qua io me le tolgo Direi Oh no Posso andarci? Posso andare? Sì Che bello No No Vabbè Ma io gioco tutto il tempo Così Sì Che bello Vai Andiamo No no Aspetta 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 Gira 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 Non usciamo dai compini Ok storm Tre minuti Dov'è? Andiamo a vedere Che c'è un mio amico là Ne capirà più di me sicuramente Oh Sono sopravvissuta Mi sa Allo storm No vabbè Non ci credo Ok Sono scesa Sono 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 scesa dal coso Vabbè mi avete capito Con tutto il motoscapo Con tutto il motoscapo Fulvio e Adriano Fulvio e Adriano Dove siete? Ma perché Gira e rigira Non ci sono Uh Dove sono io? Oh Sono quella bianca Ok Lo storm si sta avvicinando Quindi sto andando nella direzione giusta Perché devo andare più centrale Ma Il significato è Quindi Dobbiamo sconfiggere lo storm Eh Fulvio e Adriano Meno male che non vi ho seguiti Stanno morendo Fulvio e Adriano Che poi è una persona Ci sono delle luci là Dobbiamo andare lì? Aiuto ragazzi Che paura Ma non c'è nessuna in giro Ma perché? Oh che bello Ho trovato qualcosa Ogni tanto Trovo anch'io Pagherei in questo momento Per farmi un bagno al mare Ah perché sta avvenendo qui lo storm No Però il cerchio è là Boh Non ci capisco niente Andiamo Camminiamo Non ho sparato ad una persona Ancora eh Raga Davvero C'è troppo silenzio Io non ci sto capendo niente Che bello Una cittadina No Di qua Io non ci sto capendo niente Con questo gioco eh Tanto per Per dirvi Sto solo camminando E basta Di qua La strada ragazzi Sono dove dice la mappa Sì Sono arrivata Ma Ma davvero Che cos'è No vabbè No vabbè Scusa Aspetta Level up qua Iniziano salgono e scelgono Questa mi sa di potente Cosa devo fare adesso no Devo andare di là Ma questo gioco è solo scappa scappa e basta Non sto capendo Sto scappando di nuovo Oh c'è un amico Non so se è un amico in realtà Penso di sì Vei là Ciao Ciao Sei un amico vero Mica amico dove vai Dove dovevo andare Aspetta che guardo Ah ok di qua Allora andiamo Io ti seguo eh Aspetta Sto andando nella direzione giusta Oh Oh perché No Dice di andare di qua adesso Oh no aiuto Non sto capendo questo gioco Cos'è Che cosa è Ma io di qua non ci posso andare Raga ma non sta correndo più Spariamo Almeno Oh 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 Aspetta io scherzavo Qui si spara Qui si spara raga Uh mi sa che qui è la battaglia A chi sparo Oh 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 mi stanno sparando Eh Cosa Vittoria reale Royal A cosa Victory Ma stiamo scherzando No vabbè Ma io che cosa ho fatto Non ci credo Ready to up Che cosa Sto volendo Che cosa New match Starting Ma che cosa Ma davvero Ho vinto Non ci posso credere No vabbè Aspettami Dove riprende Ho fatto Una vittoria Reale Cioè Così Dice Royal Reale Quello che Aspetta Vabbè Ho vinto Ragazzi Mi avrà portato Fortuna Bosteroid Oppure sono troppo Brava io Non lo so Non so in realtà Neanche Qual è lo scopo Del gioco Cioè Non devi morire E devi sfuggire Da questa tempesta Ditemelo giù Nei commenti Qual è lo scopo Del gioco Qui sta andando Nel frattempo Ma vabbè Ricordatevi Ragazzi Fatemi il favore Andate giù Nel primo commento Oppure nell'info box E soltanto Fate l'iscrizione A Bosteroid Se poi vi interessa Che magari avete Un computer lento O non lo avete proprio E quindi volete giocare Dal cellulare E allora Iscrivetevi Pagate questo Non lo so Il mensile L'annuale Vedete un po' voi Cosa vi conviene di più E vi divertirete tantissimo Tantissimi giochi gratis Fatemi sapere Se avete delle domande Qualsiasi cosa Ok Io intanto Boh Non so se continuare a giocare Vedere un attimino Che cosa succede Benissimo Ciao ragazzi Ho vinto Ciao Vi vivi tantissimo Al prossimo video Ditemi se vi è piaciuto Con un bel like Ciao Ciao Grazie a tutti.